Scorgevo nei volti di qualcuno una certa sorpresa, forse anche sconcerto, per quello che ci veniva riportato da Don Erminio Gallo sui giudizi, gli aggettivi che venivano utilizzati, ma questo è un elemento comune, posso dire, ancora oggi ricorrente nei materiali che si trovano anche quasi nel presente delle forze dell'ordine, dei giudizi che vengono dati, per cui nessuna impressione su questi aspetti. Sì, allora riprendiamo con il professore Antonio Ianiello che ci porta adesso in Campania, il professor Antonio Ianiello è stato per lungo tempo direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Redigiose a Capua, San Roberto Bellarmino, ha insegnato storia della Chiesa presso la nostra facoltà per diversi anni, la nostra facoltà teologica, mi lega a lui un'antica amicizia, siamo stati colleghi per oltre trent'anni, e lui ci parlerà di azione giudiziaria e clero nel mezzogiorno risorgimentale, argomento sul quale ha lavorato lui a lungo e ha fatto lavorare delle giovani ricercatrici che hanno prodotto degli studi molto originali e in particolare l'impegno del professore ci accomuna in questo comune interesse e l'impegno per l'accesso agli archivi e la utilizzazione degli archivi. Noi viviamo in Campania una situazione molto grave che è quella che molti archivi diocesani non sono accessibili e non sono nemmeno dunque aperti e catalogati. Possono capire cosa significa per alcune diocesi avere archivi chiusi, non solo per gli studiosi ma per le diocesi stesse, perché l'archivio è uno dei cuori pulsanti di una diocesi e potremmo dire anche di una paese di una città, perché la storia cosiddetta religiosa e la storia civile si intrecciano, non sono distinte, non si può scrivere la storia fino almeno alla prima metà del XX secolo se non si passa anche attraverso gli archivi diocesani, considerando che molti archivi comunali non solo non sono accessibili, ma in alcuni comuni non esistono nemmeno, per cui alla fine gli archivi parrocchiali e quelli di diocesani sono gli unici depositi delle fonti. Lo ringrazio, ringrazio anche lui di essere venuto qui, gli do la parola per 20 minuti. Grazie e buongiorno a tutti, eccellenza, buongiorno, grazie per l'invito, grazie a Sergio e alla squisita ospitalità che ci avete riservato. Inizierei con una precisazione e terrò i 20 minuti canonici. Poi tutto il resto evidentemente si leggerà negli atti che saranno pubblicati. La precisazione è questa. Azione giudiziaria è clero nel mezzogiorno risorgimentale e nel mezzogiorno postunitario. Potremmo dire che c'è una sorta di parcondicio. Se è vero che il titolo di questa giornata di studio è o con Garibaldi o con il re, possiamo dire che l'azione poliziesca è stata sia verso coloro che si sono ritrovati con Garibaldi e sia verso coloro che si sono ritrovati o mantenuti, più che ritrovati, mantenuti nella scia del Borbone e quindi con il re. Fatta questa precisazione, per onestà storica, io racchiuderei un primo momento di questo mio intervento riportando alla mente due date che secondo me sono un po' lo spartiacque di una situazione precedente al 1848 e una situazione che andremo a trovare in Italia e in particolar modo nel mezzogiorno dopo il 1848. Le due date sono il 29 aprile del 1948 e il 28 novembre 1854. Perché queste due date? La prima data, come si ricorderà, è una data che ci immette nel pieno della prima guerra di dipendenza. 29 aprile 1848 Papa Pio IX è fortemente invogliato dai principi che hanno preso l'iniziativa contro l'Austria dopo i fatti di Venezia e di Milano per poter arrivare a scacciare questa presenza straniera sul territorio italiano. Il Papa in questa giornata, cioè il 29 aprile del 1848 pronuncia un'allocuzione e questa allocuzione a un certo punto dà i segnali di come il Papa si posizionerà nei confronti dell'azione militare dell'azione militare volta appunto a mettere fuori l'invasore straniero. Dice il Papa a un certo punto stando così le cose noi ai nostri soldati mandati al confine pontificio raccomandammo soltanto di difendere l'integrità e la sicurezza dello Stato della Chiesa. Ma se a quel punto alcuni desideravano che noi assieme con altri popoli e principi d'Italia prendessimo parte alla guerra contro gli austriaci giudicammo conveniente palesar chiaro ed apertamente in questa solenne radunanza che ciò è lontano dalle nostre intenzioni e consigli. Noi, essendo noi sebbene indegni facciamo in terra le veci di colui che è autore di pace e amatore di carità e secondo l'ufficio del supremo nostro apostolato proseguiamo ed abbracciamo tutte le genti, popoli e nazioni con pari paternale amore. E se non mancano tra i nostri sudditi coloro che si lasciano trarre dall'esempio di altri italiani noi potremo contenere codesto ardore. In questo brano dell'allocuzione ci sono due posizioni nette di Pio IX. Il pontefice rifiutando di prendere posizione nei confronti dell'Austria essendo, come dice nel testo, padre di tutti i popoli e di tutte le nazioni a cui maggiormente lo scontro che già era evidente tra la Chiesa e quegli aneliti di libertà e nazionalità presenti nella società italiana di quel tempo. Di tale scontro ne è stata segnata vuoi anche per l'insistenza territoriale dello Stato Pontificio sul suolo italiano la storia del nostro paese negli ultimi due secoli specialmente nel suo processo di secolarizzazione. Nello stesso brano è l'ultima parte da rileggere con attenzione la rileggo e se non mancano tra i nostri sudditi coloro che si lasciano trarre dall'esempio di altri italiani noi potremo contenere codesto ardore. Questo brano ci fa capire che c'è un altro pensiero presente e cioè quello di essere pronto a fronteggiare eventuali posizioni liberali e nazionali manifestate dai propri sudditi quindi da tutti coloro i quali clero e laici risiedevano nei territori pontifici appunto il brano che ho letto. Sottolineerei il concetto di nazionalità si lavora sempre molto sul concetto di clero liberale clero antiliberale risorgimentale poi si parlerà di reazionari ma un altro elemento che è un po' preso alla larga è il concetto secondo me di nazionalità il concetto è l'idea di nazionalità italiana che era patrimonio già diffuso nel clero alla metà dell'ottocento ma si trattava di un'idea nazionale e di un principio di nazionalità che solo in alcuni settori ecclesiastici minoritari ma sicuramente non secondari aveva punti di contatto con la concezione diciamo così liberale della nazione ed era disponibile a riconoscere nello stato liberale la incarnazione politica legittima della nazionalità italiana tutto il problema nel conflitto tra stato e chiesa stava nella classificazione proprio di questi termini nazionale ed antinazionale dove in questo secondo ambito si collocava la maggior parte del clero il nodo storico stava nella scissione tra coscienza nazionale del clero e la cittadinanza che di fatto e di diritto imponeva al clero di accogliere e accettare la sudditanza verso uno stato che all'epoca era ritenuto usurpatore e anticristiano l'altra data 28 novembre 1854 è la data che si riferisce alla proposta di legge presentata a firma di Cavour e di Rattazzi e che è passata alla storia come la proposta o la legge sui conventi perché questa legge ci intriga maggiormente perché vi erano due esigenze da soddisfare quella che bisognava abolire una sorta diremmo con un linguaggio moderno contemporaneo a noi eccellenza il sostentamento del clero che era sostenuto dalle tasse dei contribuenti dei cittadini ma stavo per mettere tra parentesi a differenza forse di oggi qui parliamo di un sostentamento clero del clero povero del clero povero la seconda esigenza era quella di non lasciare nella povertà assoluta questi chierici allora la legge proponeva che cosa non dobbiamo stornare i fondi che provengono dalle tasse dei cittadini non dobbiamo però lasciare nell'indigenza i parroci i sacerdoti poveri che cosa dobbiamo fare che cosa possiamo fare requisiamo i beni dei conventi a che servono requisiamo i beni dei conventi requisiamo le strutture ma anche tutti i possedimenti e con questi beni possiamo dare direi tra virgolette da mangiare al clero povero questo significava non solo requisire dei beni ma significava ancora di più un qualcosa di molto più di molto più grave che era la soppressione degli ordini religiosi che era una conseguenza di questa azione la legge fu approvata il 29 maggio del 55 a cui logicamente seguì la scomunica da parte di Pio IX nei confronti del re piemontese e di tutti quei politici che avevano votato la legge questa premessa per dire quale era insieme anche alle tante puntuali precisazioni che ci ha dato prima il professore di Bisceglia serve a capire anche qual era il clima nel quale una chiesa come quella del mezzogiorno e io mi riferisco in particolare alla chiesa di terra di lavoro quale scenario si presentava l'atteggiamento non sempre chiaro nei nostri territori di molti cattolici verso la situazione contingente provocato nella fattispecie anche dall'incalzare degli avvenimenti la gente capiva poco quello che stava succedendo determinò come si è detto l'insofferenza di alcuni e le intemperanze di altre questi diversi atteggiamenti determinarono l'inasprimento dell'attività giudiziaria borbonica prima e italiana dopo ecco la premessa che facevo nei confronti proprio del clero meridionale era uno stato di soggezione e di insoddisfazione che serpeggiava anche tra il clero minuto che da troppo tempo aspettava su una soglia di una porta che doveva immetterlo nel pieno di un progetto organico di pastorale attiva per questo motivo una gran parte di clero proprio per la mortificante situazione legata al disimpegno forzato dalle attività pastorali vuoi anche per il rilevante numero di chierici in rapporto alla popolazione e alle parrocchie presenti sul territorio di terra di lavoro che contribuì a determinare una sorta di figura sacerdotale che oziosamente stazionava nelle piazze o per le vie dei paesi e questi sacerdoti esaltati dalla passione che il popolo riusciva a trasmettere furono coinvolti non solo ideologicamente dai nuovi principi liberali ma in alcuni casi scesero per le strade a fianco dei rivoluzionari fu un coinvolgimento non esclusivamente politico bensì legato il più delle volte alla quotidianità della vita già differenziata tra il nord e il sud della penisola che aveva fatto l'esperienza di una depressione sociale dettata da prospettive di instabilità e frammentarietà che vide dell'epilogo non incruento proprio nei fatti e negli avvenimenti del 60-61 alcuni esempi di questa situazione e di come sono riportati nei documenti degli archivi il professore Danzarella all'inizio parlava degli archivi della ricerca tra di noi spesso si dice no siamo impolverati perché appunto se non lavoriamo negli archivi e dobbiamo dire che molta di questa documentazione chissà perché lo dovremmo spiegare un giorno non è presente negli archivi diocesani se noi non avessimo a disposizione gli archivi di Stato tanti tanti recuperi tante figure tante situazioni resterebbero nell'oblio perché chissà come mai di tutto il movimento liberale o come dice qualcuno clerico liberale dei nostri territori noi non avremmo giustificazione quindi questa è una cosa molto importante da sottolineare sempre per quella onestà storica che ci deve contraddistinguere alcuni esempi dicevo 15 maggio 1848 Napoli è trasformata dalle barricate che sono organizzate per le sue vie e fu palcoscenico di drammatici scontri tra i patriotti e le truppe regge in una relazione dell'indentente borbonico per l'arresto di un sacerdote si dice si legge che a questi moti partecipò l'arciprete di Santa Maria Capoavetere Don Stefano Pirolo il quale scandalosamente no andiede a battersi contro la fedelissima truppa con lo stesso abito sacerdotale e io dico lo scandalo stava nell'abito o lo scandalo era che questo Don Stefano non volle mai abbiurare la propria fede e la propria identità sacerdotale non camuffandosi da Garibaldino non mettendo panni tra virgolette laici ma andando contro andiede a battersi contro la fedelissima truppa con lo stesso abito sacerdotale scandalizzò questo indentente del Borbonico ma ancora il sacerdote Giovanni Mesorella di Marzano nel 1850 fu arrestato con l'accusa di aver pronunciato discorsi sediziosi e tubolenti diretti a far cambiare la forma del real governo in Marzano il 14 novembre 51 sacerdote Don Gaetano Venditti di anni 43 di Sant'Ambrogio di Rocca Guglielma Basso Lazio fu arrestato e incarcerato con l'accusa di associazione illecita organizzata in corpo al vincolo di segreto costituente setta gran società dell'Unione Italiana avente in oggetto la cospirazione contro la sacra persona del re di distruggere e cambiare il governo ed eccitare i sudditi ad armagli contro l'autorità reale anche alla battaglia del Volturno presero parte sacerdoti liberali come il canonico Francesco Ianiello che secondo gli atti investigativi e poi anche di processo si presentò a Garibaldi che in quei giorni alloggiava nel palazzo della famiglia Teti in Santa Maria Capoavetere cinto di fascia di tricolore e di sciabola e chinatosi gli baciò addirittura il piede dicendo a te e non a Pietro su questo ho i miei dubbi però è l'intendente e l'azione investigativa che riporta questo anche un altro sacerdote Giuseppe Papa pare che abbia più volte palesato che dopo Dio veniva solo Garibaldi ancora tra il clero di dichiarata fede italofila è certamente il sacerdote Paolo Zito a cui figura è descritta come risorsa del pensiero liberale e risorgimentale non fu inferiore per censo autorità e ricchezza fu superiore a tutti per il suo fortissimo animo virile patriottico e battagliero il capitano Garibaldino Don Paolo Zito questa documentazione fa riferimento all'archivio di stato di Caserta ai faldoni relativamente agli ambiti della grande corte criminale della camera processi penali all'alta polizia dell'intendenza di terra di lavoro e all'intendenza borbonica fondi che stiamo studiando ormai da qualche da qualche tempo nella fase postunitaria ho ancora qualche minuto un minuto nella fase io sono se no nel anche due grazie grazie eccellenza e sono devotamente filiale nei primi anni dopo dopo la formazione dello stato in Italia unitario così come era capitato negli ultimi anni della sovranità borbonica in particolare nei territori di terra di lavoro diversi furono i sacerdoti che per adesione diretta o per nostalgica simpatia allo schieramento reazionario in molti casi anche per fraintesi furono oggetto di mire della polizia alle dipendenze del nuovo governo unitario certamente quello che è stato anche richiamato incauto predeterminato tentativo di piemontizzazione ma non è quello il problema del sud di allora non fu quello ma portò certamente a dei dissapori tra le autorità governative noi insediatesi e la popolazione che sfociarono anche in forme violente di ribellioni tendenti ad un inutile quando vano auspicato ritorno allo status quante vescovi e clerono usarono una condotta molto eterogenea i primi in gran parte furono dichiaratamente ostili alla nuova ideologia assumendo una posizione di condanna e di netto rifiuto del nuovo aspetto politico che l'Italia si stava dando e della fisionomia laicista che era così recuperata o interpretata dall'azione della presenza piemontese nel sud dell'Italia laicista ed anticlericale in cui si voleva trasformare secondo alcuni la società meridionale che da troppo tempo si sentiva garantita dalla reciproca accettazione delle due autorità dal re dal papa dove l'una sembrava sempre disposta a concedere e sottolineo sembrava sempre disposta a concedere l'altra immediatamente a benedire questo programma di riforma di riforma appunto laicista tendente ad un rinnovamento a religioso se non il religioso delle coscienze alla luce dell'emancipato spirito moderno fu senz'altro il motivo di fondo di certi atteggiamenti l'azione di polizia dei preposti dal nuovo governo a vigilare perché tutto tutto risultasse secondo i piani di un assestamento politico salto alcuni passaggi in questa in questa ottica pur molti vescovi avendo indicato ai propri sacerdoti di non immischiarsi nelle cose politiche ci sono delle affermazioni molti sino di diocesani nelle lettere pastorali dei vescovi dell'epoca la risposta governativa poco seguito fu poco seguito questo monito dei vescovi questo avvertimento perché proprio il forte legame esistente tra la casa reale e l'episcopato meridionale giustificava la ribellione clericale nei confronti della rivoluzione risorgimentale la risposta governativa a tale atteggiamento non ha intanto avvenire pensiamo alle ai proclami del generale Pinelli in Abruzzo pensiamo prima è stato citato il generale Cialdini e la repressione della rivolta della rivoluzione di Isernia dove appunto si cercò di mettere a tacere popolo e clero indifferentemente successivamente anche i vescovi subirono è stato richiamato qualche vescovo dal professore di Bisceglia è stato richiamato anche da Don Gallo mi sembra Don Gallo vero? sì ecco mi ha fatto piacere il richiamo a Monsignor Rapuzzo ho scritto qualche volume su Monsignor Rapuzzo tra i primi vescovi gambizzati a Sorrento e fu mandato in esilio a proprie spese ma rientrano Riario Sforza l'arcivescovo Giuseppe Cosenza a Capua il vescovo Francesco Saverio a Puzzo prima a Sorrento e poi il cardinale a Capua il vescovo Domenico Zelo ad Averse il vescovo Gennaro Saladino Venafro Isernia il vescovo Bartolomeo d'Avanzo a Teano il vescovo Enrico De Rossi a Caserta Monsignor Mariano Ricciardi a Reggio Calabria prima e poi Esule a Sorrento Monsignor Francesco Petagna a Castellammare di Stabbia il Domenicano Monsignor Tommaso Michele Salzano furono questi fatti oggetto delle attenzioni dei commissariati di pubblica sicurezza delle compagnie dei carabinieri delle prefetture nonché della procura generale del re con deportazioni arresti aggressioni e lesioni molti di questi morirono per il dispiacere altri per i disagi sopportati anche dobbiamo dire alcune salme di vescovi furono oltraggiate nel momento dei funerali e alcune salme furono condotte ai cimiteri comuni lo ricordava sempre di bisceglie oltre 60 vescovi e oltre 200 preti furono arrestati per motivi politici dopo gli anni 70 restavano solo delle frange di intolleranza ma lo Stato nazionale non rischiava più di tanto ancora si usavano misure di controllo ma solo a scopo cautelativo o per la dovuta intelligenza come si esprimevano i delegati di pubblica sicurezza nei nostri territori dobbiamo aspettare gli anni 80 per avere figure illuminate come il cardinale Alfonso Capecelatro che era stato bocciato all'episcopato perché ritenuto troppo italiofilo ma la presenza del cardinale Alfonso Capecelatro in terra di lavoro rappresenta tutta un'altra storia grazie si va delineando con quest'altra relazione qual è stata la profondissima crisi vissuta in quella stagione da quelle generazioni il disorientamento l'incapacità anche a comprendere cosa stava avvenendo ma era strutturale ma anche la repressione da ogni parte è la repressione sabauda che veniva ricordata all'interno di una repressione più grande che è stata la repressione di una vera guerra che si è compiuta nel meridione nel quale un esercito è venuto a combattere altri italiani di questo anche poco si è scritto e poca traccia è rimasta se non nella memoria trasmessa delle repressioni che si sono realizzate nei nostri paesi del mezzogiorno all'interno Grazie a tutti.